Che cerchi? La Costituzione La so La sa Ecco qua, articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge e senza distinzione di sesso Guarda, io se c'è una cosa che non supporto è che gli italiani devono mettere il sesso dappertutto Senza distinzione di sesso, di razza, di lingua Di lingua, il sesso, la lingua, è una cosa... Guarda, non hai capito perché qui se leggessi bene, guarda, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione Oh dai, la religione e il sesso dovrebbero essere due cose, ma totalmente proprio Ma solo totalmente, perché se tu non stai capendo il senso, perché il senso è chiaro Perché senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche Di politiche, questo è la politica, il sesso passando per la religione Ma che cosa stai dicendo? Che cosa dici? Non hai capito proprio la questione com'è? Ma no, perché questa è la cosa, è sancita dalla Costituzione E' questa la questione, allora, sanciamole, e tu come loro, sanciamole, sanciamole È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale Però se tu non leggi bene la Costituzione, poi non ci possiamo lamentare se le cose vanno come vanno, è chiaro? Grazie